Ma noi siamo pronti a tutto, stamattina ho visto l'assessore Piraino e gli incontrerà i sindacati, dopodiché se c'è da rettificare, da aggiustare, da cambiare, per carità anche da cancellare, non è che siamo dei cretini per cui è così e non si muove nulla, tutti gli apporti, consigli, le proposte di modifiche, non vogliamo creare precari, non vogliamo creare illusioni, c'è questa opportunità, la si usa come nelle altre regioni, la si vuole gettare a mare, per carità, ritengo che non sia giusto, questo è il senso del mio discorso, pronto a fare mille passi indietro, perché si può anche sbagliare, per carità, si valuterà con quanti si sono espressi negativamente a cominciare i sindacati, benissimo, si faccia questo confronto, credo che l'assessore Piraino se non lo fa oggi lo farà domani, dopodiché si va avanti, mettendo fuori gioco queste vergognose e squallide polemiche, questo è fuori discussione.